c'è veramente la tua prova di filosofia e certo ma com'è la scuola come la scuola era un mito come come faceva quando ha vinto sanremo quando non ha vinto saremo cosa ha fatto era contento quando prendeva due era contento lo stesso era sempre contento l'importante essere contenti tu sei professoressa di filosofia quindi mi confermi che prende la con filosofia sempre grande è incredibile perché